Oggi primo giorno di riaperture per la nostra regione ma in provincia di Teramo sono quattro i comuni Torricella Sicura, Castellalto, Giulianova e Martinsicuro che dovranno ancora rispettare le rigide restrizioni dovute alla zona rossa. Decisione che ha suscitato forti polemica Giulianova da parte del primo cittadino e dei commercianti a cui ora si aggiunge anche la presa di posizione del sindaco di Martinsicuro contro i dati dell'Asle e l'ordinanza regionale. I due sindaci Ivan Costantini e Massimo Bagnoni non ci stanno e hanno scritto una nota congiunta per un incontro con i vertici regionali sanitari per chiedere che la misura venga rivista il prima possibile. Sì, è una situazione particolare difficile, comprendiamo la preoccupazione della sanità regionale nel tenere calmi i contagi, però chiediamo di poter rivedere questi provvedimenti per cercare, visto che siamo un po' in certi casi al limite, di cercare di consentire soprattutto nell'ottica del prossimo ponte del primo maggio l'attività di ristorazione e riaprire, manca tutta l'altra attività che si trovano un po' a subire da mese in mese delle restrizioni. Insomma, bisogna stare ancora attenti, però cerchiamo un confronto da questo punto di vista e speriamo di poter arrivare a una soluzione che contempli bene tutte le due esigenze. Nel suo comune la situazione com'è? Sotto controllo? Sotto controllo, anche se effettivamente l'ultima settimana abbiamo avuto un aumento di contagi che ha comportato questo passaggio in zona rossa. Dobbiamo stare attenti e quindi noi lo diciamo sempre, non abbiamo strumenti per controllare il territorio in maniera adeguata, questo ce lo dobbiamo dire. Per questo pensiamo però che anche grazie al tracciamento che l'ASLA fa dei contagi, di poter mantenere la situazione sotto controllo, soprattutto adesso che andiamo verso la stagione buona e quindi dobbiamo veramente dare una mano, un supporto a tutta l'attività per poter ripartire. Credo che ci sia, in tutte le condizioni, il buon senso di poterlo fare. Quindi lavoriamo insieme alle istituzioni senza polemiche perché la fase è ancora difficile e quindi dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione e sono sicuro che lo faremo.